Mi sono candidata ad essere ambasciatrice perché credo in Erasmus da sempre, sono una ex studentessa Erasmus e credo che Erasmus possa fare molto per il settore di cui mi occupo, in particolare l'inclusione delle persone con disabilità. Il settore degli adulti è particolarmente importante per queste persone perché dopo la scuola difficilmente trovano strade, percorsi adatti a loro. Erasmus sta dando una mano concreta a trovare delle vie per queste persone, per accrescere le loro professionalità e per essere cittadini a tutti gli effetti.